Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Airforex.com e questo video sarà un video più tecnico dove vi mostrerò alcune cose interessanti che osservo e che vado ad approfondire nel momento in cui sono operativo sul mercato. Ovviamente il mercato principale che segue è il mercato delle valute, il mercato Forex, e quindi questi esempi dove vi mostrerò appunto, diciamo, principalmente le aree importanti, quelle che io chiamo livelli di interesse, saranno appunto utilizzate dei grafici sul Forex, diciamo che in linea generale su mercati molto liquidi come indici maggiori, come materie prime maggiori, si può comunque usare lo stesso metodo perché io lo uso da veramente tanti anni. Tant'è che se andate indietro su questo canale troverete video di 10, 12, 11, 12 anni fa. Quindi la metodologia rimane la medesima. Allora, sono sull'euro-dollaro, eccoci qua. Questo è un grafico giornaliero, come potete notare. È ovvio che su questo mercato però io, come su tutti i mercati Forex, quindi su questa tipologia di studio dei livelli importanti, vado sempre a prediligere il grafico settimanale. Ovviamente quando guardo la struttura guardo svariate cose, guardo la tendenza, guardo la volatilità, gli swing, eccetera. Ma in questo video, in questa pillola, diciamo di trading, voglio soffermarmi principalmente sulle aree chiave, sui livelli di interesse. Qualcuno magari li può chiamare supporti e resistenze tecnici, qualcuno li chiama livelli hot, no? Livelli caldi, qualcuno livelli chiave. Insomma, io vi spiego come li guardo io perché non sono solo supporti e resistenze tecniche, sono il mio modo, diciamo, di leggere livelli importanti. Allora, se guardiamo questo grafico e ovviamente dobbiamo andare su un grafico settimanale per poter al meglio riuscire a leggere quelli che sono in effetti i livelli più importanti, dobbiamo andare a vedere dove c'è stato più interesse a comprare o a vendere. Quindi in questo caso specifico, se andiamo nell'ultima parte del grafico, quindi prendiamo l'ultimo anno e mezzo circa, noteremo che abbiamo dei punti dove il mercato è stato, diciamo, venduto. Quindi se vado a vedere, prendendo i picchi di questo movimento short, poi abbiamo questa zona, poi abbiamo questa zona, questa, quindi dove è stato venduto, dove è stato venduto, quindi qui guardate questa zona, dove è stato venduto, poi ancora quest'area e al momento basta. Quindi nell'ottica di andare a cercare, diciamo, dei punti di vendita, delle vendite sul cambio euro-dollaro, il punto principale, primario, dove io potrei ritrovare degli spunti di vendita, qual è? È l'ultimo livello di vendita. E quindi è il livello che passa, diciamo, per queste zone. E io su queste zone qui, che sono praticamente l'area 1,1650, circa, 1,17, vado a prendere tutta la zona. Quindi faccio, praticamente, mi faccio un un rettangolino, anzi lo faccio, ve lo faccio vedere direttamente sul grafico, così è anche più chiaro, eccolo qua, tutto il rettangolino che ha portato i prezzi giù, potrebbe diventare la zona più importante di vendita. Quindi nel momento in cui, se dovesse venirsi a creare un movimento a rialzo, un po' alla volta, di euro-dollaro, è ovvio che questa qui è un'area assolutamente molto importante di offerta. Ovviamente, ripeto, queste cose che vi sto dicendo non sono scritte nei libri, non me le ha insegnate nessuno, sono cose che io ho visto nel tempo e che possono essere importanti nell'ottica di capire dove voglio comprare, dove voglio vendere un certo determinato mercato, cioè, diciamo, le zone che probabilmente ci possono dare più statisticamente profittabilità nel momento in cui vado ad avere un'entrata. In questo caso, ovviamente, come dico sempre, avrò bisogno di un movimento ovviamente che va verso quei livelli, ma su quei livelli, quindi sulla zona, sono sempre delle aree, non sono dei livelli statici come i supporti delle resistenze tecnici, sono delle zone, delle aree, e qui dovrà esserci ovviamente un chiaro input del mio trading, del mio piano, perché altrimenti non si fa nulla. Quindi questo. Poi ancora, se io vado più su, quindi nella zona che è stata di vendita, che zona ritroviamo, e quindi facciamo così, prendiamo questo, possiamo ritrovare come altra zona di vendita molto importante quest'area. Questa è un'altra area dove, quindi la zona che passa tra 1,18 e 1,19 e 1,20 è un'altra area dove una volta passata questa ci possono essere le vendite, dove in effetti il mercato ha avuto le vendite maggiori. E poi ancora dove? Questa zona. Se guardiamo poi quello che era avvenuto qui, quindi la zona di vendita, se notiamo questa zona qui di vendita è stata poi vendita con una bella last kiss pin bar e poi ancora vendita con ancora anche qui delle last kiss decision bar che hanno portato giù i prezzi. Quindi questa era un'area in quel momento molto importante nel momento in cui il prezzo diciamo andava a riprendere quei livelli poteva essere interessante cercare di comprare e di vendere. E stessa cosa arriva alle zone di domanda quindi le zone di acquisto nel momento in cui io mi trovo con una zona qui che è stata molto acquistata qui che è stata molto acquistata e poi dopo il mercato è sceso questa zona può essere molto acquistata e se notiamo in effetti in questo caso il mercato è stato riacquistato cioè ha avuto un rialzo è ovvio che come dicevo prima dobbiamo sempre poi andare a leggere quelle che sono le price action che si vengono a magari confermare sul grafico daily perché no magari trovare qualche spunto operativo sul daily di breve ovviamente anche perché poi dopo c'è tutto lo studio della tendenza della volatilità che dobbiamo ovviamente fare ma in questo caso volevo ovviamente focalizzarmi sul discorso delle aree chiave se andiamo poi a guardare bene noteremo che altra zona e sempre prendendo i rettangolini no altra zona importante di acquisto è stata questa no guardate qua se io faccio così questa è la zona di acquisto e notiamo che cosa notiamo che proprio nel grafico weekly di euro dollaro proprio qui il mercato si è fermato dove c'erano gli acquisti precedenti movimento di rally base rally base rally movimento che ritorna nella parte di acquisto e viene riacquistato qui viene riacquistato per poi seguire la tendenza e qui adesso abbiamo un'altra area importante dove tra l'altro si forma anche un segnale di trading quindi qui nel momento in cui abbiamo delle conferme su grafico daily possiamo pensare di andare contro diciamo la tendenza cercare un long e ad avere degli obiettivi che possono essere per esempio la zona tra 1 e 15 e 1 e 17 e via dicendo quindi vedete come cercare di studiare la struttura senza l'ausilio di indicatori che poi alla fine sono come dire sono qualcosa in più sono forse anche un'informazione come possiamo dire anche di seconda mano perché arrivano su quelle che sono dinamiche del prezzo già avvenute l'indicatore poi ti mostra delle cose quindi in questo caso direi che la zona nella quale si è venuto a formare l'euro dollaro cioè a fermare l'euro dollaro dove si è formata questo ask you spin bar è proprio una zona chiave di domanda ok andiamo a vedere qualche altro mercato ma tanto per farvi capire prendiamo l'Australia dollaro però facciamo così così non ho dei miei livelli segnati perfetto anche l'Australia dollaro vedete che in questo caso l'area di domanda qual è? l'area di domanda era questa era la zona più importante di acquisto nell'area nella zona nella zona si era già fermato una volta con il rialzo e poi è andato addirittura proprio a prendere i minimi per poi questa settimana guardate era in una tendenza fortissima e poi proprio nella zona di domanda nei minimi nella zona di domanda c'è stato il recupero stessa cosa vale per le zone di vendita prendiamo queste per esempio quindi tutta quest'area da qui a qui diventa una zona di vendita quindi se dovessimo ritornare su questa zona questa è una zona assolutamente di vendita quindi una zona di offerta quindi se noi vogliamo nel momento in cui il mercato dovesse tornare su quel livello quella zona noi da Forex Trader dobbiamo diciamo vederla più come zona dove cercheremo delle vendite perché è una zona di offerta Australia e stessa cosa nel momento in cui arriviamo su quest'area guardate qui questa era stata una zona di eccola qua di vendita quindi dove abbiamo avuto la partenza di un movimento short qui una volta che è ritornato è stato venduto e qui è entrato dentro ed è stato rivenduto quindi anche qui mercato di vendita quindi vedete come il mercato se lo seguiamo bene sul weekly poi andiamo a cercare dei trigger su daily e al massimo conferma 4 ore da daily se abbiamo le conferme daily quindi con i trigger daily interessantissimo diciamo semplice quindi manteniamo le cose pulite grafico chiaro grafico pulito e possiamo concludere andiamo a vedere un altro mercato mi viene a dire prendiamo il dollaro yen che è arrivato su un livello importante andiamo a vedere il dollaro yen eccolo per esempio dollaro yen che guardiamo un po' questo è un settimanale sempre mercato che era comunque in tendenza rialzista se andiamo a prendere negli ultimi 4-5 anni guardate la zona dove siamo arrivati proprio nelle ultime settimane è una zona di che tipo? di offerta quindi se io vado a prendere tutta l'area che qui è stata venduta possiamo prenderla in questo modo e quindi vediamo come questa zona qualora doveva dovesse ritornarci e fare un trigger short come in effetti è stato proprio in ultime settimane possiamo andare alla ricerca di setup short su grafico giornaliero che ci indicano la volontà dei prezzi di poter essere magari ribassisti andare verso il basso e poi cercare nuovi punti di uscita per esempio in questo caso guardiamo se andiamo a prendere i punti dove ci sono stati gli acquisti maggiori quali sono stati? sono stati questa zona e in realtà anche la zona sopra quindi questo eccolo qua quindi la prima zona di riacquisto diciamo è la zona che passa tra i 110 e 30 e i 109 e 30 e poi abbiamo anche delle zone più sotto quindi vedete come è importante cercare di capire diciamo quello che il mercato ci sta dicendo le zone di interesse domanda e offerta si ripropongono nel tempo e ci danno diciamo i migliori punti di entrata in vendita in acquisto o di uscita anche da una posizione nel momento in cui facciamo trading ovviamente bisogna riconoscerli però se voi vi andate a approfondire non troppi mercati li conoscete bene e andare su grafici settimanali per fare tutto questo i livelli più importanti non sono moltissimi vicini ovviamente a dove è il prezzo attualmente e quindi su quelli è la cosa migliore è concentrarsi su quelle aree e su quelle aree cercare poi degli spunti operativi dal weekly per poi andare su un daily e su un daily cercare delle conferme possibili operative quindi di trading puro diciamo in ottica di trading va bene ragazzi quindi diciamo che anche per oggi mi sembra di aver detto tutto credo che questo video possa essere molto d'aiuto per chi diciamo ama l'approccio price action o per chi già lo utilizza da tempo o per chi si è appena avvicinato a questo tipo di approccio magari per chi è il primo video che vede mio dopo tantissimi video dopo 12 anni che siamo su youtube però magari già qui conosce un po' i mercati e intuisce che magari un'operatività di questo tipo può essere altamente sensata ed anche profittevole quindi io vi chiedo infine di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto e vi può dare un supporto di commentare se ci sono delle cose che volete magari anche vedere nei prossimi video perché ovviamente i video qua se ne fanno sempre quindi se avete degli argomenti scriveteci insomma sui commenti perché ci fa molto piacere di attivare la campanella di questo canale e di iscrivervi e basta a questo punto non mi resta che augurarvi una buona un buon fine settimana e un buon trading simple un buon trading simple per la prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti